Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di fragole senza glutine, burro e uova. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono fragole, farina di mandorle, zucchero, fecola di patate, lievito, vanillina, pasta di limone o la scorza grattugiata di un limone. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le fragole e le facciamo frullare per 15 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere lo zucchero, la farina di mandorle, la pasta di limone, la fecola di patate, la vanillina e il lievito. Ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 5. Versare in uno stampo da 20 centimetri in silicone oppure in una teglia rivestita con carta da forno. Cuocere in forno pre-riscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti. Fare la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e decorare a piacere. Torta di fragole senza glutine, burro e uova. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.